Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio BD Media, che è la media dell'ultima settimana tra tutti gli istituti demoscopici. Fratelli d'Italia scende dello 0,2 al 28,4. Il PD cresce dello 0,1 al 19,6. Movimento 5 Stelle scende dello 0,4 al 16,1. La Lega scende dello 0,2 all'8,6. Forza Italia scende dello 0,2 al 7,2. Verdi sinistra cresce dello 0,3 al 3,9. Azione cresce dello 0,2 al 3,9. Italia Viva scende dello 0,1 al 3,1. Più Europa al 2,5. Noi moderati 1,1. Per l'Italia Italia Exit 1,1. Unione Popolare 0,9%. Democrazia sovrana popolare 0,8%. Il partito che cresce di più, Verdi sinistra dello 0,3. Il partito che scende di più, Movimento 5 Stelle dello 0,4%. Grazie a tutti. Arrivederci. A presto.